Cari amici, il rientro in madrepatria in Inghilterra Oh, sbagliato strano, sto andando ai passaporti La situazione è semplice, i tireways sono in difficoltà Non hanno più neanche i soldi per l'equipaggio Sia all'andata che al ritorno mi sono beccato due uomini, Stuart, invece che alle solite 3-4 donnine Il che è strano, no? In più non hanno neanche da bere, neanche una birretta, una bicchiere di vino, nulla Solo acqua, coca cola e stronzate Vabbè, i tireways, tempi duri